L'ironia dei tifosi arabi su dopo il K.O. dell'Argentina. Doha, Qatar, un'impresa è un'impresa e tanto più è in attesa, tanto più viene celebrata. È il caso dei tifosi dell'Arabia Saudita che, dopo aver visto la propria nazionale battere in rimonta la decisamente più quotata argentina. Non hanno smesso di festeggiare il risultato storico. E nel mirino degli sfottò sauditi non poteva non finire l'Ainemessi. Che dell'Albi Celeste è il giocatore simbolo ma anche l'elemento più atteso. Un successo. Quello dei sauditi, che condanna proprio l'Argentina oggi a una partita da dentro o fuori contro il Messico. Diverso, anzi opposto, invece l'umore in casa Arabia Saudita, che probabilmente il proprio mondiale lo ha già vinto, e così nel recarsi all'Education City Stadium di Doha per l'incontro di oggi. Alcuni tifosi arabi hanno ironicamente preso in giro l'asso argentino indossando una maglietta con i colori della propria nazionale. Comperò il nome di Messi. Il numero? Lo zero, esattamente i punti che l'Argentina ha raccolto con i sauditi. Virgola. Grazie. Grazie.